Benvenuti alla quarta lezione sull'analisi di bilancio. Ci occuperemo in questa lezione di due argomenti importanti. Il primo è la composizione, la struttura del conto economico per isolare le variabili fondamentali per l'analisi di bilancio. Il secondo argomento che affronteremo è poi un'analisi attenta delle misure di produttività. Cominciamo quindi col primo argomento, la struttura del conto economico. Possiamo a questo punto far riferimento alla tabella che indichiamo e via via animeremo con dei grafici a lato in modo che si possa capire la formazione, la composizione del conto economico. Vediamo insieme. La prima cosa che ci interessa è scomporre i proventi operativi. Cosa sono i proventi operativi? Vediamo come sono composti. In primo luogo vedete il fatturato netto, cioè le vendite che l'impresa effettua sul mercato a rappresentare la componente fondamentale, principale e più importante dei proventi operativi. Ad essa aggiungiamo un'altra componente, di solito relativamente modesta, ma che qui per esposizione più chiara abbiamo fatto abbastanza rilevante. Vedete la variazione delle rimanenze dei prodotti e dei lavori in corso, cioè non tutta la produzione realizzata dall'impresa è destinata alla vendita, una parte può essere accantonata nei magazzini dell'impresa. Allora, se noi scopriamo dall'analisi, vedete che nel grafico i proventi operativi sono espressi uguale a 100 e quindi tutte queste componenti sono percentuali rispetto ai proventi operativi, se scopriamo che c'è un peso elevato di questa componente dobbiamo in qualche modo essere in allarme, potrebbe essere un lungo ciclo di lavorazione, quindi nulla di preoccupante, ma potrebbe anche essere una situazione recessiva sul mercato, cioè l'impresa non riesce a vendere tutto il prodotto perché c'è una caduta di domanda sul mercato ed è costretta, non avendo reagito immediatamente a questa informazione, è costretta a mettere una certa quantità di beni in magazzino, questa evidentemente è una situazione di crisi dell'impresa e l'elevata componente delle variazioni delle rimanenze può segnalare questo fatto. Aggiungiamo un'altra componente, teniamo presente che l'insieme di questi due elementi rappresenta il valore della produzione dell'impresa, se notate nella tabella abbiamo scritto il valore della produzione lorda, per ricordarci sempre che è all'ordo degli ammortamenti, quindi è tutta la produzione complessiva dell'impresa. Aggiungiamo come vi dicevo un'altra componente che sono i costi capitalizzati a immobilizi tecnici, cioè sono costi sostenuti all'interno dell'impresa, sappiamo già dall'analisi del bilancio che cos'è questa variabile, in ogni modo sono costi sostenuti all'interno dell'impresa, ma che riguardano in sostanza la manutenzione, la ristrutturazione degli impianti ad esempio dell'impresa e che quindi non devono essere considerati dei costi veri e propri per l'impresa, possono essere, cioè capitalizzati e non essere quindi imputati all'esercizio. Bene, cosa potremmo scoprire? Che anche questa è un'elevata componente, ad esempio la percentuale, la quota è molto elevata, potrebbe segnalare solo un fatto straordinario, cioè che si sono installati e sono state effettuate manutenzioni straordinarie degli impianti proprio in quell'anno, un caso particolare, oppure anche in questo caso potrebbe essere un sintomo di un eccesso di capacità produttiva. Immaginate che la domanda sul mercato sia caduta, siamo in recessione e l'impresa non riesce ad espellere o non vuole espellere i lavoratori in eccedenza esistenti all'interno dell'impresa, tutti questi lavoratori, chiamiamoli disoccupati all'interno dell'interno dell'impresa, possono essere utilizzati per mettere in buon funzionamento gli impianti dell'impresa, quindi manutenzioni straordinarie dei macchinari e degli impianti possono essere proprio effettuate nei momenti di crisi dell'impresa per poter utilizzare pienamente o perlomeno avvicinarsi il più possibile al pieno utilizzo della forza lavoro nell'impresa. Aggiungiamo l'ultima componente che vedete sono gli altri ricavi e accessori e abbiamo finalmente la struttura dei proventi operativi. Passiamo ora ad analizzare come si ripartiscono i proventi operativi, quindi abbiamo indicato sempre 100 i proventi operativi e vediamo adesso le singole componenti. In primo luogo deduciamo dai proventi operativi i costi esterni operativi. Cosa sono i costi esterni operativi? Come vedete nella slide riguardano essenzialmente il consumo di beni intermedi, immaginate le materie prime, le materie sussidiare utilizzate nel processo produttivo, che vedete i consumi intermedi sono dati da che cosa? Dalla differenza fra gli acquisti di beni effettuati sul mercato, di beni intermedi che servono nella produzione acquistati sul mercato e la parte delta MM, vi ricordo, è la variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie che invece l'impresa non utilizza subito nel processo produttivo, ma destina ad accumulo nel magazzino. Quindi facendo questa differenza otteniamo i consumi dei beni intermedi. Per ottenere i costi esterni, come se ritorniamo appunto alla slide, lo vediamo, come vediamo nella slide, dobbiamo anche aggiungere gli acquisti, le prestazioni di servizio utilizzate appunto acquisite dall'esterno. Quindi una volta che abbiamo sommato il consumo di beni intermedi e gli acquisti di servizi dall'esterno abbiamo i costi esterni operativi. C e come vedete abbiamo immaginato che la nostra impresa, nel grafico si può osservare, abbia una rilevante quota di costi esterni operativi. Bene, facciamo la differenza e possiamo vedere che la componente residua rappresenta il valore aggiunto lordo. Quindi se togliamo dai proventi operativi i costi esterni operativi, abbiamo quello che è il valore che l'impresa aggiunge a ciò che compra dall'esterno. Ed è proprio questa una misura, se volete, più corretta della produzione dell'impresa. Ebbene, le percentuali, come vedete, le quote di queste due componenti, i costi esterni e il valore aggiunto possono darci una prima informazione. Vediamolo insieme. Ecco, possono essere, io ho scritto misure spurie, nel senso che incorporano anche l'effetto dei prezzi, possono variare i prezzi dei beni acquisiti dall'esterno o dei beni prodotti all'interno dell'impresa, quindi sono misure non precise, ma esprimono appunto l'integrazione verticale dell'impresa, cioè a dire quanta parte del prodotto viene fatta veramente all'interno dell'impresa, il rapporto fra valore aggiunto e proventi operativi dà una misura in qualche modo di quanto l'impresa sia integrata. Più elevato questo rapporto, evidentemente, più l'impresa acquisisce pochi beni e servizi intermedi dall'esterno e effettua tutte le lavorazioni all'interno. Normalmente le imprese hanno un grado di integrazione relativamente limitato, la gran parte sono specializzate in certe produzioni e quindi acquisiscono beni parzialmente finiti all'esterno che poi subiscono l'ultima trasformazione, quindi normalmente osserviamo un'elevata quota di CE e una piccola quota di VA. Il rapporto complementare, cioè CE su PO, come potete notare, rappresenta il coefficiente tecnico input-output, cioè quanti beni e servizi intermedi in percentuale rappresentano della produzione complessiva dei proventi operativi dell'impresa. A questo punto possiamo fare 100 adesso il valore aggiunto, stiamo parlando della seconda colonna che vediamo e se deduciamo dal valore aggiunto il costo del lavoro, vedete che noi qui abbiamo rappresentato come una componente abbastanza rilevante, una quota molto grossa del valore aggiunto, com'è calcolato il costo del lavoro? Vedete, il costo del lavoro è la somma dei salari pagati agli addetti alla produzione, WP e il compenso, gli stipendi pagati al personale preposto all'organizzazione, all'amministrazione, al controllo e così via. Quindi WI rappresenta in sostanza il personale indiretto, cioè non direttamente attinente alla produzione. La somma di queste due componenti dà appunto il costo del lavoro dell'impresa, se noi deduciamo dal valore aggiunto il costo del lavoro, quindi il pagamento di questo primo input, di questo primo fattore della produzione all'interno dell'impresa, otteniamo come differenza il reddito margine operativo loro. Consideriamo adesso di avere un elevato quota del costo del lavoro, che cosa ci segnala? Ci può segnalare che la produzione che effettua l'impresa utilizza molto lavoro, in questo caso noi diciamo che sono produzione capital saving o labor intensive, oppure potrebbe segnalare che il salario pagato ai lavoratori è molto elevato, questo potrebbe corrispondere a una situazione in cui l'impresa utilizza personale ad alta professionalità, quindi un altro elemento che dovremmo tenere in considerazione, ma potrebbe anche succedere che l'elevato costo del lavoro sia imputabile invece a bassa produttività. Per quale motivo? Perché l'impresa è inefficiente e quindi sta utilizzando un eccesso di lavoratori oppure perché è caduto in recessione, cioè sul mercato la domanda è diminuita e l'impresa non ha ancora avuto tempo di espellere forza lavoro eccedente, in questo caso il costo del lavoro peserebbe molto sul valore aggiunto, il valore aggiunto verrebbe ridotto proprio dalla caduta di vendite e di produzione che l'impresa deve effettuare e nel contempo non si sono espulsi i lavoratori in eccedente, il costo del lavoro ovviamente sarebbe una quota molto elevata. La componente residua come vi ho detto prima è il margine operativo lordo o reddito operativo lordo, in gergo si chiama appunto moll, margine operativo lordo ed è appunto il complemento. È evidente che il reddito operativo lordo è l'elemento determinante del profitto dell'impresa, è ancora lordo di ammortamenti ma è ciò che spetta al capitale, vi ricordo i due fattori produttivi nel processo appunto di produzione sono il lavoro e il capitale, se togliamo il costo del lavoro abbiamo il reddito destinato al capitale. Bene, a questo punto possiamo ripartirlo, ripartiamo il reddito operativo, facciamolo pari a 100 e vediamo quali sono le componenti. In primo luogo vedete dobbiamo dedurre gli ammortamenti tecnico-economici, vi segnalo questo termine tecnico-economici perché non sono gli ammortamenti iscritti in bilancio, ma sono quelli che l'impresa calcola come corretti per rappresentare la durata tecnico-economica degli impianti e macchinari che possiede. L'abbiamo identificati, se vi ricordate, con AM Star e sono calcolati come applicazione dell'aliquota di ammortamento tecnico-economica AK al montare allo stock medio dei emmortamenti e le immobilizzazioni tecniche in esercizio IT. Bene, una volta identificata questa componente, questa potrebbe essere piccola o grande. Se noi scopriamo che c'è un'elevata quota di ammortamenti, questo potrebbe essere un sintomo, un segnale di produzioni capital intensive, cioè che utilizzano molto capitale e poco lavoro, quindi labor saving, oppure anche questo potrebbe essere un segno di pericolo, un segnale di pericolo dovuto all'eccesso di capacità produttiva. L'impresa è in recessione, gli impianti, i macchinari non possono certo essere espulsi dal processo produttivo perché sono dei costi sank, cioè dei costi non recuperabili nel breve periodo e in questo caso verrebbero solo parzialmente utilizzati. La produzione non assorbirebbe tutta la capacità produttiva, ma gli ammortamenti dobbiamo effettuarli lo stesso, gli ammortamenti tecnico-economici e quindi questi rappresenterebbero una quota molto grande del reddito operativo. Bene, se noi deduciamo dal reddito operativo lordo e gli ammortamenti finalmente abbiamo lo stesso concetto, ma in termini netti, vi ricordo sempre che la differenza tra lordo e netto è dovuta agli ammortamenti, quindi la quota residua è il reddito operativo netto, misurata come differenza tra margine operativo lordo e ammortamenti tecnico-economici. Notate che in gergo questo componente si chiama MON, appunto margine operativo netto. A questo punto facciamo pari a 100 tutto il reddito o margine operativo netto e vediamo che cosa dobbiamo sottrarre dal margine per ottenere poi la remunerazione che compete agli azionisti. Vi ricordo che il capitale può essere finanziato dal mercato in due forme, la prima è attraverso l'indebitamento, la seconda è attraverso il finanziamento, cioè l'apporto dei soci, degli azionisti dell'impresa. Quindi in primo luogo noi deduciamo che cosa? Gli oneri finanziari, cioè gli interessi pagati sul capitale preso a prestito, cioè l'indebitamento che ha l'impresa. Se notate abbiamo scritto indebitamento finanziario netto perché l'impresa potrebbe anche avere attività finanziarie. Allora facciamo la compensazione fra debiti finanziari e attività finanziarie e questo rappresenta l'indebitamento finanziario netto e ovviamente dobbiamo fare anche la differenza fra i flussi, cioè fra gli oneri finanziari, gli interessi passivi e i proventi finanziari o interessi attivi che noi otteniamo sulle attività finanziarie e abbiamo così la componente di oneri finanziari netti. Non a caso se notate l'istogramma abbiamo scritto OF, oneri finanziari, meno PF, cioè meno i proventi finanziari. Se scopriamo che questa componente è molto elevata, questo potrebbe essere segno di un alto indebitamento netto dell'impresa oppure di un elevato costo del denaro, cioè gli intermediari finanziari chiedono all'impresa degli interessi passivi molto alti. Questo ovviamente è un fatto ciclico, ma in certi momenti della vita dell'impresa può l'impresa incappare in tassi di interesse in costo del denaro molto alto, per motivi particolari di politiche monetarie restrittive che alzano il tasso di interesse. Se sottraiamo quindi di questa componente abbiamo come residuo il reddito corrente. Con questo termine rappresentiamo che cosa? La parte di reddito operativo che è destinata a remunerare il capitale dei soci o il capitale degli azionisti. Notate, per ottenere l'effettiva remunerazione finale dovremo poi dedurre altre componenti. Questa è a monte, vedete ante, imposte e rettifiche, cioè a dire questa misura non tiene conto ancora delle imposte che sul reddito di impresa destinata agli azionisti devono essere pagate dall'impresa stessa e non tiene conto delle rettifiche al valore del reddito che l'impresa può effettuare per politiche di bilancio prima di presentare il risultato di bilancio ufficiale, cioè stampato finale sul bilancio pubblicato dall'impresa. Allora a questo punto di nuovo facciamo 100 il reddito corrente e andiamo a vedere le componenti che dobbiamo dedurre per ottenere alla fine il reddito d'esercizio, cioè quello finale sul bilancio. Dal reddito corrente vedete la prima cosa che possiamo immaginare che l'impresa effettui delle rettifiche di bilancio, qui sono state sintetizzate, ricordate le rettifiche di bilancio, sono rappresentate da tutti i proventi netti, presunti e straordinari che l'impresa ha in qualche modo determinato in base a sue logiche di prudenza e di competenza dei costi e dei ricavi. Poi vi può essere anche una differenza dovuta al fatto che gli ammortamenti tecnico-economici calcolati all'interno dell'impresa differiscono da quelli indicati in bilancio, che normalmente sono gli ammortamenti ordinari fiscali, cioè ammessi dal fisco. Allora queste due componenti insieme determinano le rettifiche di bilancio. Le rettifiche di bilancio sappiamo possono essere incrementative dal reddito, quindi se volete i proventi presunti e straordinari eccedono gli oneri presunti e straordinari e quindi vanno a incrementare il reddito corrente, quindi RB su RX è maggiore di zero, oppure possono essere riduttive, cioè una parte di questo reddito corrente viene trattenuto all'interno dell'impresa attraverso queste rettifiche perché l'impresa ritiene che non competano all'esercizio, è il caso che abbiamo rappresentato nel grafico, quindi RX fatto 100 RX, una parte non viene riconosciuta come reddito effettivo per gli azionisti, ma prudenzialmente viene trattenuta dall'impresa. Teniamo presente che questa componente segnala, se molto elevata, la presenza di componenti congetturali di reddito, quanto sia quindi corretta questa correzione che fa l'impresa, qui dipende dal fatto che l'impresa voglia segnalare veramente la misura del reddito al mercato, oppure preferisca tenersi prudenze eccessive per futuri periodi, oppure addirittura preferisca effettuare delle correzioni aumentative del reddito per fare politica di bilancio, in particolare in momenti delicati di crisi dell'impresa per non segnalare al mercato lo stato di crisi. Tutti questi concetti si racchiudono nel termine di politica di bilancio che sta dietro a questa componente RB. Facciamo quindi la nostra sottrazione e otteniamo il reddito imponibile. Il reddito imponibile è proprio il profitto che verrà erogato agli azionisti, ma ancora lordo delle imposte, prima di aver pagato le imposte. Quindi ho precisato che un profitto dichiarato dall'impresa come quello corretto, ante imposte. Quindi RX è il reddito corrente più RB, che sono le rettifiche di bilancio, che nel nostro esempio grafico sono negative e quindi vanno sottratte, determinano il reddito imponibile. E a questo punto, fatto cento il reddito imponibile, togliamo le imposte, gli oneri fiscali, le imposte sul reddito OT, in base all'aliquota che viene applicata dallo Stato e otteniamo così il reddito d'esercizio per differenza. Ri meno t dà il profitto netto dichiarato. Bene, con questo abbiamo concluso l'argomento relativo alle strutture del conto economico, quindi alle componenti del conto economico e affrontiamo adesso il secondo argomento, quello che riguarda la misura della produttività. Entriamo in argomento, dicendo che vi sono due misure sostanziali della produttività. Una potrebbe essere la misura della produttività di tutta l'impresa e di tutti i fattori dell'impresa. È relativamente complesso calcolare la produttività relativa a tutti i fattori dell'impresa, per cui omettiamo quest'argomento e ci invece focalizziamo sulla produttività parziale, cioè a dire rispetto a un fattore produttivo. Imputeremo, cioè la misura della produzione, vedremo quali sono le misure più idonee, a un solo fattore produttivo, il fattore lavoro. E quindi è per questo che noi parliamo appunto di produttività parziale. Vi sono due possibilità di misura. Una misura, se volete, relativa ai beni omogenei, cioè a dire in un reparto produttivo, in una linea produttiva, noi possiamo misurare effettivamente le quantità prodotte in quella linea, perché i beni sono tutti uguali fra di loro. E quindi contiamo i pezzi, misuriamo i metri, misuriamo la lunghezza, utilizziamo qualche forma di misura omogenea. Il problema è invece misurare la produttività a livello di impresa. Qui normalmente le imprese producono non un solo bene, ma più beni, cioè beni eterogenei. E noi abbiamo l'ambizione lo stesso di misurare la produttività, anche se sappiamo di non poter sommare le quantità di frigoriferi con le quantità di lavatrici prodotte dalla stessa impresa, perché sono beni completamente diversi. Quindi dobbiamo trovare un escamotage per misurare la produttività parziale. Allora, focalizziamo l'attenzione sulla misura tradizionale della produttività di linea e normalmente che cosa utilizzeremo? Ma le quantità che escono di quella produzione, da quella linea, e lo dividiamo ad esempio per le ore di lavoro utilizzate nel processo produttivo. Oppure potremmo al denominatore, vedete, utilizzare le ore macchina, cioè il tempo di utilizzo delle macchine, dei macchinari dell'impresa. Facciamo questo rapporto e abbiamo un indicatore parziale, ovviamente, perché vedete al denominatore c'è solo il fattore lavoro, della produttività dell'impresa. Più elevata la quantità per ora di lavoro o per ora macchina dell'impresa, più elevata è la produttività dell'impresa stessa. È un indice ovviamente di efficienza. Più alto è, meglio è per l'impresa perché realizzerà alla fine un più alto profitto per l'impresa. Quindi questa misura di efficienza è molto importante. Ma veniamo all'aspetto più importante, cioè come si può misurare la produttività a livello complessivo di impresa quando i beni sono eterogenei. Allora è evidente, come vi ho detto, che non possiamo sommare le quantità, dobbiamo sommare i valori, cioè a dire le lire, gli Euro che rappresentano la produzione dell'impresa, ma la produzione così misurata in valore potrebbe nascondere una variazione dei prezzi dei beni e quindi sovrastimare la produzione dell'impresa. Utilizziamo una convenzione che avevamo già vista, utilizzata per la misurazione del prodotto interno lordo a livello di una nazione, del sistema economico complessivo e lo facciamo, adottiamo le stesse convinzioni per l'impresa. Cioè misuriamo tutte le quantità ai prezzi di un anno base, cioè a prezzi costanti di un anno base. Ad esempio potremmo utilizzare i prezzi dell'anno precedente applicati alle quantità prodotte nell'anno corrente, per ottenere quindi una misura del valore della produzione dell'impresa, ma a prezzi fissi dell'anno base. Allora vediamo insieme quali sono le statistiche che noi dobbiamo ottenere dall'impresa per poter misurare la produttività in questo modo. Allora quello che vediamo è un primo set di variabili che possiamo estrarre dal conto economico. Leggiamole insieme dal conto economico e vedete possiamo prendere il valore della produzione, 120 milioni di Euro abbiamo immaginato, deduciamo i costi esterni, oramai sappiamo che questa operazione ci determina il valore aggiunto, quindi deduciamo i costi esterni per 66 milioni di Euro e otteniamo il valore aggiunto di 54 milioni di Euro, ma per ottenere il valore reale della produzione abbiamo bisogno di due statistiche, un indice dei prezzi delle vendite che noi applicheremo al valore della produzione e un indice dei prezzi degli acquisti che noi utilizzeremo per applicarli ai costi esterni. Cosa vuol dire 1,2? Vuol dire che dall'anno base, possiamo immaginare che sia l'anno precedente, i prezzi dei beni venduti dall'impresa sono mediamente cresciuti del 20%, per cui fatto 1 l'indice dei prezzi dell'anno scorso adesso è 1,2. La stessa cosa per l'indice dei prezzi degli acquisti, 1,1 vuol dire che i prezzi da un anno all'altro sono cresciuti del 10%. Bene, quali altre statistiche sono necessarie per fare il calcolo? Abbiamo bisogno di una misura dell'input di lavoro nel processo produttivo e normalmente utilizziamo queste tre statistiche, vediamole insieme. Allora, innanzitutto la media del personale, cioè tutto il personale esistente dipendente dell'impresa, 200 abbiamo immaginato che siano le unità di questo personale, poi andiamo a identificare gli addetti alla produzione, quelli che veramente producono i beni e i servizi dell'impresa, abbiamo immaginato che siano solo 100 e che l'ultima statistica importante relativa agli addetti alla produzione siano le ore lavorate in produzione. Abbiamo immaginato 180.000 ore lavorate dai 100 dipendenti addetti alla produzione. Bene, con queste informazioni, vediamo insieme, possiamo misurare finalmente la produzione reale, cioè in termini reali. Vedete cosa sommeremo? Per gli n beni prodotti dall'impresa, per i, che è un generico bene, da 1 a n, moltiplichiamo le quantità correnti, vedete, QI, per PI0, cioè per il prezzo dell'anno base, che potrebbe essere ad esempio l'anno precedente. Allora, moltiplicando questi abbiamo valori a prezzi fissi, a prezzi costanti e sommiamo tutti questi valori, otterremo così una misura della produzione reale dell'impresa. Nel nostro caso semplificato, come vedete, possiamo ricorrere a PV, che era il prezzo dei beni venduti, cioè l'indice dei prezzi dei beni venduti, e rapportare PL a questo indice per ottenere PR, cioè la produzione reale. Si piglia la produzione lorda del conto economico, la si divide per questo indice dei prezzi, che è una misura statistica che l'impresa rileva al suo interno, ottenendo così la produzione reale. Bene, possiamo vedere adesso un esempio. Vediamo in modo particolare che ho lasciato, vedete che PR è dato da PL su PV, andiamole a identificare, vedete PL lo trovo nel conto economico, il valore della produzione è 120, PV è l'indice dei prezzi 1,2, devo fare il rapporto e ottenere PR la produzione reale, 120 diviso 1,2 fa esattamente 100 milioni di Euro. Questa, vedete, è sempre una misura in Euro, quindi in valore, ma a prezzi dell'anno base. Abbiamo depurato quindi il valore della produzione corrente mediante l'indice dei prezzi, torniamo quindi, misuriamo la produttività del lavoro a questo punto, possiamo subito ottenere una prima misura, prendiamo il valore reale della produzione, quindi non il valore corrente perché altrimenti incorporerebbe l'effetto prezzi e lo dividiamo per tutti i dipendenti dell'impresa, la media dei dipendenti dell'impresa. Ebbene, se facciamo questa operazione, abbiamo, diciamo così, un doppio errore, commettiamo un doppio errore. Sul numeratore, vedete, abbiamo preso il valore reale della produzione, ma la produzione, noi ricordiamo, non è effettivamente realizzata tutta all'interno dell'impresa, gran parte della produzione viene acquisita dall'esterno come beni intermedi che poi devono essere lavorati all'interno. Quindi attribuiamo al lavoro, al fattore produttivo, anche il prodotto preso all'esterno. Quindi, insomma, stiamo eccedendo nella misura della produttività. Guardiamo adesso il denominatore, il denominatore è la media dei dipendenti, commettiamo anche in questo caso, se volete, un errore perché riteniamo produttivi tutti i dipendenti, li mettiamo tutti sullo stesso piano, sia il personale effettivamente addetto alla produzione, sia il personale indiretto addetto invece all'organizzazione, al controllo, all'informazione. E quindi, se volete, questa è una misura molto lasca di produzione. Da un lato è utile, vi segnalo, mettere tutti i lavoratori sullo stesso piano può dare il segno appunto di essere tutti sulla stessa barca con una missione, quella di raggiungere la massima efficienza dell'impresa e quindi questo potrebbe essere un indicatore utile. Utile soprattutto, sapete per cosa? Per remunerare i lavoratori con un premio di produzione quando c'è un miglioramento di efficienza. Invece di distinguere i lavoratori fra quelli direttamente addetti alla produzione e da quelli indiretti, si mettono tutti sullo stesso piano per misurare il rendimento, il vantaggio ottenuto da un incremento della produttività. Poi il salario può essere agganciato a questo elemento, a questa misura per avere una componente che premia i lavoratori per lo sforzo che hanno immesso nell'ottenere una maggiore efficienza. Ma adesso noi vedremo le correzioni che dobbiamo effettuare. Torniamo alla nostra tabella, intanto possiamo misurarla. Vi ho riportato che la produttività del lavoro, vedete, è il rapporto fra PR, produzione reale e il numero complessivo dei lavoratori dell'impresa, andiamo all'identificare, vedete la produzione reale l'avevamo appena determinata, NL è la media del personale, facciamo questo rapporto, 100 diviso 200 dà come misura, vedete, la produttività del lavoro. Quindi ciascun lavoratore indistintamente, senza quindi distinguere fra diretti e indiretti, produce 500 mila Euro unitariamente, quindi pro capite potremmo dire. Quindi questa è una prima misura della produttività, ma andiamo a effettuare le correzioni necessarie. Allora innanzitutto focalizziamo l'attenzione sul numeratore, dobbiamo moltiplicare quell'indice che abbiamo visto per un altro che mi corregga in sostanza quella, direi quell'aspetto non positivo di aver misurato il valore della produzione, prescindendo dal fatto che solo una parte viene realizzata all'interno dell'impresa. Moltiplichiamo quindi questo indicatore, vedete, per il grado di integrazione. Avevamo già visto che cos'era il grado di integrazione, ve l'avevo indicato come una misura spuria. Adesso invece lo calcoliamo nel modo corretto, cioè dobbiamo far riferimento, vedete, ai valori reali. Dobbiamo calcolare il valore aggiunto reale, cioè depurato dell'effetto prezzi. Abbiamo già la misura della produzione reale PR, dobbiamo dedurre i costi esterni, che però vi ricordo, i costi esterni sono espressi a prezzi correnti, dobbiamo rapportarli, vedete, all'indice dei prezzi dei beni acquistati dall'esterno. Facendo questo ottiremo il valore aggiunto reale, facendo questa sottrazione. Bene, vedete, vi ho indicato che il valore aggiunto reale non è nient'altro che una quota, un membetta, vedete, una percentuale, della produzione reale. Un membetta, il valore aggiunto reale sulla produzione reale, quindi la quota di valore aggiunto reale, è appunto la misura corretta del grado di integrazione. Ebbene, possiamo andarlo a misurare. Il grado di integrazione, insieme guardiamo sulla tabella come calcolarlo. Andiamo a prendere, vedete, i costi esterni, CE, e li rapportiamo ai prezzi degli acquisti, cioè all'indice dei prezzi. Quindi 66 diviso 1,1, vedete, sotto APR ho aggiunto CE su PX, cioè i costi esterni reali. Sono 60 milioni di Euro. Possiamo finalmente fare la sottrazione e ottenere il valore aggiunto reale, 40 milioni di Euro. Bene, a questo punto possiamo identificare la produzione reale e il valore aggiunto reale e calcolare il grado di integrazione. 40 milioni è il valore aggiunto, 100 milioni è la produzione, tutte e due espresse in termini reali, facciamo il rapporto e otteniamo 40%. Cosa vuol dire questo grado di integrazione? Che il 40% della produzione viene svolto all'interno dell'impresa. Quindi rappresenta più è elevato, più quantità di produzione viene svolta all'interno dell'impresa. Alto grado di integrazione. Più è basso, più l'impresa ricorre all'esterno per produrre e quindi svolgerà poi all'interno una piccola quota aggiuntiva. La stragrande maggioranza delle imprese assomigliano a questa caratteristica che non alla precedente. Bene, a questo punto noi possiamo ritornare alla tavola precedente e calcolare il risultato. Quindi una volta che noi moltiplichiamo la produttività del lavoro per il grado di integrazione, vedete, va via il numeratore della prima frazione e il denominatore della seconda, ottenendo così la produttività del lavoro corretta. Al numeratore ci sarà il valore aggiunto reale e al denominatore la media dei dipendenti. Andiamolo a calcolare. Quindi dobbiamo prendere il valore aggiunto reale e il numero dei lavoratori, ottenendo così la produttività corretta. Quindi lo possiamo ottenere, vedete, moltiplicando il 0,5 per il 40%, quindi 0,2, 200, 1.000 Euro è la produttività giusta, cioè quella espressa in valore aggiunto reale per addetto, oppure possiamo fare direttamente il rapporto, andando a prendere il valore aggiunto reale 40 per il numero dei lavoratori, che sono 200, quindi 40 milioni di Euro diviso 200, appunto da 0,2 milioni di Euro pro capite. E allora a questo punto possiamo interrompere la lezione in modo che meditiate su questi aspetti, abbiamo corretto il numeratore, dobbiamo ancora correggere il denominatore, nella prossima lezione vedremo appunto quali elementi dobbiamo introdurre per effettuare questa operazione. A presto, arrivederci!